Paolo Panerai, sono il presidente e il proprietario. Il mio lavoro è un altro, non è fare vino. È un lavoro anche quello perché il mio lavoro è fare direttore e fondatore e giornalista della casa editrice Classe Editori. Sono arrivato a fare vino perché ho vissuto da ragazzo in mezzo ai campi e in una villa e lì c'era anche un mezzo potere che aveva il vino. E quindi, diciamo, quando poi ho avuto la possibilità di acquistare un'azienda in Chianti ho acquistato Castellari di Castellina. Buon vino che ho prenduto è un vino che sia vero. Ho pubblicato io il libro su Giacomo Takis, che è stato il più grande enologo. Giacomo non è mai stato nostro dipendente, nostro enologo. è stato il maestro del nostro enologo Alessandro Cellai e aderiva al principio di Galileo Galilei che il vino è luce del sole e umore della terra. E quindi abbiamo ricostruito qui la storia del più grande enologo italiano e del suo credo nella teoria vinicola del padre dell'astronomia.